Per me Acmos è una famiglia, è il luogo in cui vivo, casa Acmos, è il luogo in cui ho scelto di trascorrere le questioni della mia vita. Perché è un posto dove ci sono persone a cui voglio bene. In questo momento per me Acmos sono i miei amici, il mio lavoro, la mia fidanzata. E quindi cos'altro posso dire? Perché credo che sia un modo nella mia vita per lasciare un fagno in questo mondo. Posso bere qualcosa prima di parlare? Acmos per me è comunità, famiglia e futuro. Casa e lavoro è un'occasione di incontro continuo e di crescita continua. È passione perché pensando a questi 15 anni questa è la parola che mi viene in mente. Acmos è il giro giusto. E' un sogno che diventa realtà e che continua nel tempo. E' un movimento che mi ha permesso di incontrare tante persone, di crescere come persona io stesso, che mi ha dato tanto. E' quando avevo i capelli. E' questo ragazzo qua. Questo ragazzo ha 22 anni ed è il responsabile della baracca e si mangia molto meglio di 15 anni fa. Questo vuol dire che siamo cresciuti in qualità e grazia. Per me Acmos è mangiare bene. Uno stile di vita. Sarebbe pizza. Perché? Perché la pizza è buona, si mangia con gli amici e comunque molto meno ti fa anche crescere. Uno strumento importante per provare a cambiare il mondo. Una goccia, quella che però speriamo che faccia traboccare il vaso. No, you get it!